È stata una settimana molto positiva, c'è stato il primo impatto con il gruppo, con i giocatori, con lo staff. Devo dire che c'è un ottimo ambiente per l'inizio, tanti ragazzi li conoscevo già, altri ci conosceremo, abbiamo tempo per conoscerci ancora, però diciamo che a livello di gruppo, a livello di allenamenti è stata una settimana non tanto intensa, però che ci ha servito per mettere i piedi già al palazzetto, per fare i primi passi, per muoverci, per conoscerci e quindi credo che è stato un ottimo inizio a livello personale, con i giocatori, con lo staff e con la palla. Sicuramente personale, sicuramente a condividere con il gruppo sia la mia esperienza in campo che fuori dal campo e oltre alle mie capacità come palleggiatore, quindi personalmente metterci tanto a livello tecnico, come esperienza e di cuore in campo. Il punto di forza sicuramente, e speriamo che sia il gruppo, perché conosco tanti ragazzi, tanti che hanno giocato in Superlega per diversi anni, che siamo qua per puntare alto e quindi noi dobbiamo essere consapevoli di quelli che siamo e dove vogliamo arrivare.